La Cina non ci ha regalato niente, quello che è arrivato è stato pagato. E poi la Cina è il paese peggiore del pianeta, fa concorrenza sreale su tutti i versanti e mette in crisi l'economia, è il paese che inquina più di tutti con plastiche ed emissioni di CO2, è il paese che non ha detto la verità sul diffondersi di questo coronavirus, è stato il paese responsabile dei ritardi e della disinformazione per cui guidato da una dittatura comunista. La Cina è il cancro del pianeta, dobbiamo affrontare le cose con coraggio, con determinazione, con mezzi economici limitati, ma l'Europa si deve svegliare, la Lagarde va cacciata e Di Maio e i cinesi non ci raccontino bugie. La Cina è un pericolo per il pianeta.